Loro sono, calma, arte, cultura e schettacolo! Sentiamo di Fisca, come a Prostaro, con un forte applauso! E diamo coraggio anche ai nostri artisti. Io vi ricordo che loro non potrebbero essere artisti, che non sono arrivati a 15 miliardi, poterà una telefonica, poterà anche questa sera, quindi poi piant' 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 mi ricordo che il più profilo era un tonico di me in sud a Torraccio e poi alle 11.30 lezioni di carattela qui sul quarto scelgo. Grandi vicini avremmo tutti! Noi possiamo stare via? Possiamo stare via? Qui si vede a un'impasto e tutta la teatro! E i dati vedi! E il vero che vive, preparate che sono in un'unico di profilo. E il vero che sia quello che sta dando, la primavera in un paio in un'unico di... E cosa parla è? E i 500! E' la luna 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.